eccoci qui alle ore 18 puntualissimi zona cesarini e ho finito la riunione sette minuti fa ho fatto velocissima per arrivare da voi e adesso aspettiamo speriamo che tutti abbiano letto margo buongiorno ma quindi tu sei la mamma di giorgia io do un abbraccio a tutte e due federica buongiorno c'è la mia amica del cuore con la q di quadro che patisce quando mi vede perché dice che non mi riconosce perché parlo in dizione e lei non è abituata claudia ciao caspita che meraviglia quante siete ciao allora ciao margo ciao giorgia ciao amica mia claudia molto bene aspettiamo l'autrice che si collegherà sicuramente katia ecco la fiorenza buongiorno mi fa piacerissimo che siete riusciti a leggere il mio messaggio e che siate qui molto bene allora io direi che possiamo cominciare visto che già visto che già un po tardi e intanto vi ricordo che domani scusatemi ma il mio primo lavoro mi chiama e quindi alle domani alle 16 noi ci incontriamo ci vediamo alle 16 emanuela buongiorno per un'altra avventura direi forse l'ultima l'ultima pagina della nostra dei nostri grilli divinate allora io direi di procedere dove eravamo arrivate eravamo arrivati ieri a isabella che atterra a roma o quantomeno sta per atterrare più che altro più che atterrare che secondo me atterrerà ora esatto e invece no ha conosciuto il grillo che è il grillo parlante ma non è il grillo parlante che conosciamo noi è un grillo di linate che non può volare la sua popolazione di grilli non è in grado di volare e allora cosa fa chiede un passaggio a isabella per poter vedere il mondo allora andiamo a scoprire il terzo episodio isabella ha un segreto zampa è ben nascosto nel mio zainetto e l'aereo sta cominciando la lenta discesa per arrivare a roma aurora si è svegliata e abbiamo chiacchierato di me di come vado a scuola mi ha chiesto quale materia mi piace di più e io le ho risposto che sono brava in matematica e in scienze le ho detto che mi piacciono gli animali che a casa di mamma ho un pappagallino e a casa di papà un pesciolino rosso lei mi ha raccontato dei suoi viaggi mi ha detto che è andata tante volte a new york a londra ea parigi da un po di tempo è in servizio da milano a roma e da roma a milano che bello fare la hostess da grande vorrei fare la scienziata ma se non ci riesco potrei sempre fare la hostess stiamo per atterrare ho riallacciato la cintura di sicurezza e mi tengo stretta stretta ai braccioli della poltrona mi ha sempre fatto un po paura lo scossone che si sente quando l'aereo tocca a terra con le ruote ecco siamo a terra bravo il pilota che ha fatto un atterraggio dolce ora l'aereo è sulla pista e sta rallentando siamo fermi aurora mi slaccia la cintura e mi prende per mano vuole portarmi lo zainetto ma io insisto per metterlo sulle spalle devo stare attenta a non schiacciare la tasca esterna dove ho nascosto zampa chissà come se la passa lì dentro è stato bello viaggiare con te isabella scusa se ho dormito un po ero tanto stanca dopo domani quando torni a casa mi troverai qui per accompagnarti a milano dice aurora con un bel sorriso poco prima di lasciarmi al terminal dove ho già visto che papà mi sta aspettando le sorrido anch'io e l'abbraccio ciao aurora a dopodomani corro a salutare papà che mi stringe forte aiuto povero zampa ciao isabella tesoro come stai sono così felice che tu sia qui domani ti porto in gita al mare vieni adesso andiamo a casa mi toglie lo zainetto e lo mette nel bagagliaio della macchina prima che io possa protestare sono preoccupata per zampa ma non posso fare niente altrimenti svelo il nostro segreto zampa è a casa di isabella non sono mai stato in una casa di umani isabella ha detto che questo è l'appartamento dove vive il suo papà mi sembra un insieme di grandi scatole comunicanti in ognuno c'è un colore diverso alle pareti isabella mi porta a fare un giro poi entriamo nella sua cameretta mi ha sistemato sulla testa sopra una molletta che le tiene i capelli ha detto che devo rimanere immobile e io obbedisco il suo papà mi ha scambiato per un animale di plastica carina la tua molletta forma di grillo ha detto isabella ha cambiato subito discorso come stai papà hai sempre tanto lavoro perché non vieni un po a caso sono stanca di vederti solo ogni 15 giorni tesoro mio non ti ha detto niente la mamma che cosa mi doveva dire lo sai che sempre distratta si sarà dimenticata posso capirla però dobbiamo dirti una cosa importante che non ti piacerà per questo la mamma non ti ha detto niente ma io non posso aspettare ancora sei grande dobbiamo essere sinceri con te isabella è rimasta in silenzio non ho capito che preoccupata sono stato zitto e fermo anch'io mentre lei ha abbassato la testa poi il suo papà ha cominciato un lungo discorso sono rimasta ad occhi bassi ad ascoltare papà che mi diceva quello che avevo immaginato già da un po di tempo alcune alcuni miei compagni di scuola hanno i genitori separati che non vivono più insieme perché non vanno d'accordo non si vogliono più bene come quando si sono sposati il mio amico giorgio abita con la mamma e la mia amica anna sta con il papà in fondo l'avevo capito la mamma non parla mai di papà non fa mai progetti per incontrarlo per andarlo a trovare certe sere quando pensa che io stia dormendo sento che piange a volte parla da sola voce bassa ho capito che non è felice anche quando vengo a roma mi pare che papà sia un po strano mi porta in giro a luna parca al mare ma non mi chiede mai come sta la mamma anche lui la sera quando viene a salutarmi in camera per darmi il bacio della buonanotte è serio e ha come un'ombra sugli occhi le telefonate tra loro una volta venivano ogni giorno mentre ora sono diventate rare e sento che si dicono poche cose poi passano il telefono a me papà dice che affronteranno un periodo di prova per capire se davvero tra loro è tutto finito chi mi darà coraggio quando avrò paura mi metto a piangere papà mi abbraccia ma non serve sono troppo triste lasciami sola in fondo mi ci devo abituare no dico con amarezza non mi risponde se ne va triste anche lui mi sdraio e a quel punto sento zampa posso muovermi adesso sono stanco di stare immobile mi ero dimenticata di zampa lo metto sul cuscino vicino a me mi guarda fisso ho capito che sei triste Isabella ma non ti devi abbattere nella vita tutto può succedere prendi esempio da me non mi sono mai fermato davanti al fatto che non ho le ali per volare ma ho cercato un modo per farlo ugualmente ma è diverso gli rispondo tu non sai quello che provo e io non sono mica un grillo mi dispiace tanto per Isabella l'ho appena incontrata eppure è come se fosse mia amica da sempre penso a un modo per consolarla forse anche con lei posso fare quello che faccio con i giovani grilli della mia tribù quando sono tristi o hanno bisogno d'aiuto perciò le racconto una storia cara Isabella ascoltami c'era una volta una grillina verde 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 più di me si chiamava smiraldina come tutti i grilli non era stata allevata dalla mamma e dal papà ma dalla nutrice una baglia che le aveva dato da mangiare finché non era stata capace di badare a se stessa smiraldina non aveva mai conosciuto la sua mamma e il suo papà ma viveva felice ugualmente giocava saltava nei prati cantava di sera nascosta tra l'erba giocava con gli altri grilli giovani come lei cantava con loro e i loro cori erano bellissimi e pieni di gioia e di armonia ecco ho finito concludo ma come è già finita la storia ma non è troppo corta chiede Isabella sì ma non finisce smiraldina visse sempre felice ma senza mamma e senza papà dice perplessa pensa a come sei fortunata tu in confronto a smiraldina tu non perdi nessuno dei due loro ti vorranno sempre bene tu sei comunque la loro bambina e ti saranno vicini devi avere fiducia ma come fai a dire queste cose tu che non sai niente degli esseri umani dimentichi che sono il grillo saggio forse sono parente di quello di quella storia che dicevi tu Pinocchio Pinocchio si chiama Pinocchio e il grillo saggio in quella storia non fa una bella fine Pinocchio lo schiaccia per non ascoltarlo assassino finalmente Isabella ride dai forse hai ragione cercherò di non preoccuparmi e starò a vedere certo che se come dici farò ancora tantissimi viaggi da Milano a Roma e da a Roma Milano magnifico e ogni volta che verrai a Linate ci sarò io per salutarti e affidarti un giovane della mia tribù per permettergli di volare vuoi che trasporti come ho trasportato te zampa mi ha fatto ridere è riuscito a consolarmi e adesso sono più tranquilla gli ho promesso che tutte le volte che verrò a Roma porterò con me in aereo uno dei giovani della sua tribù ora è contento ho passato una bella giornata al mare con papà anche papà è stato allegro ci siamo divertiti a nuotare a fare i tuffi insieme ho trovato una conchiglia e sott'acqua ho visto una stella marina non abbiamo più portato avanti cose tristi zampa è rimasto a casa aspettarmi racconta zampa quello che ho fatto oggi lui dice hai visto non è difficile essere sreni anche se c'è un problema da risolvere bisogna affrontarlo con calma e tutto sembrerà più facile sei davvero saggio ora mi canta una canzone dei grilli papà lo sente e viene in camera mi è sembrato di sentire un grillo dice sì sì l'ho sentito era sulla finestra ma ora se n'è andato non voglio che scopra la presenza del mio amico bene buonanotte tesoro ti voglio tanto bene ricordati che per te ci sarò sempre buonanotte papà ti voglio tanto bene anch'io zampa ripete quello che ha detto papà ti voglio bene è una frase degli uomini che mi piace molto ti voglio bene isabella grazie zampa anche io ti voglio bene siamo arrivati alla fine della seconda puntata dei nostri grilli di linate domani la concludiamo e poi avrò un'altra sorpresa per voi ma ora non vi dico nulla in compenso spero che vi sia piaciuta e vi racconto la solita favola di jacopo perego ne ha scritta una oggi cioè quantomeno ne ha pubblicata una oggi che non era proprio sicurissima perché è un po particolare ma secondo me come al solito ha una morale talmente bella che è giusto che io ve la racconti allora intanto prima di cominciare saluto alessandra simone antonella ciao giulia sono contenta che tu sia tornata ciao poi c'erano l'emanuela che è la mamma della mia amica poi c'erano un sacco di persone con che non conosco ciao vincenzo ciao la nadia ciao michela ciao eloisa donadelli una scrittrice meravigliosa e poi daniele alex miozzi che è l'illustratore lui che ha fatto il disegno che vi ho fatto vedere l'altra volta adesso se lo trovo ve lo faccio rivedere perché è bellissimo comunque le pubblica anche fiorenza pistocchi che è l'autrice della fiabro mai lo sapete pubblica anche lei ops è caduto allora adesso vi racconto la favola si intitola la favola sporca però non scrivete oggi siete pigri non vi è piaciuta la favola o non vi è piaciuta la mia cantatina del grillo scusate ma sono cose che mi vengono in estemporanea quindi può venire bene può venire meno bene è così la favola sporca una rondine stava volando verso sud per svernare ma il tempo era talmente rigido che finì per congelare mentre era a terra alla ricerca di qualcosa che la potesse salvare dal freddo sopraggiunse una mucca che gli scaricò addosso mezzo chilo di sterco ricoperta da una badilata di letame di vacca la rondine non realizzò quanto questa fosse calda poiché essera troppo presa a considerare l'accaduto come un dispetto che non le era per nulla piaciuto quando una volpe che per caso passava di lì delicatamente la rondine pulì quest'ultima esclamò ecco finalmente una creatura che mi vuole bene e che senza alcun dubbio un grande cuore tiene purtroppo come molti avranno già intuito di grande la volpe teneva soltanto l'appetito essa in un sol boccone si mangiò il pennuto sotto gli occhi della mucca che versando una lacrima commentò così l'accaduto non è detto che chi ti ricopre di letame sia qualcuno che ti vuole male non è detto che chi da esso ti tira fuori sia qualcuno animato da sentimenti buoni era bella no allora io vi saluto mi raccomando condividete sul vostro profilo le nostre favole vero fiorenza perché più persone raggiungiamo più bambini hanno l'occasione di rilassarsi dieci minuti un quarto d'ora insieme a noi e poter stare tranquilli o magari stare voi tranquilli lasciate lì e andate a farvi un caffè no no voglio che siate con me anche voi no non vi andate a fare il caffè mi dispiace state tutti con me allora io vi ringrazio questo appuntamento è meraviglioso per me grazie perché sto avendo tanta solidarietà da parte vostra tante belle parole grazie 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 io vi do un abbraccio e ci vediamo domani con l'ultima puntata dei grilli di dinate grazie di essere stati con me ciao e ciao giorgia e ciao margot e ciao a tutti i bimbi che se voi mi scrivete io mi rispondo è un abbraccio ciao 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 ciao